Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo episodio dell'orologio di Dio. Sono felicissima di condividere con voi nuove notizie su questo mese che si sta svolgendo proprio in questo tempo. Ora nel tempo naturale ci troviamo in un giorno non tanto felice per i cristiani che è il giorno di Halloween, ma voglio condividervi proprio non il vero significato di Halloween, se no quello che sta succedendo nel mondo spirituale secondo il calendario di Dio. E infatti vi voglio parlare di questo nuovo mese che si apre, che è il mese di Shevan, il mese di Shevan, rullo di tamburi. Siamo pronti per partire in questo nuovo viaggio alla scoperta dell'orologio di Dio. Questo nuovo mese di Shevan si apre nel nostro calendario gregoriano tra il mese di ottobre e il mese di novembre. Letteralmente in questo 2020 si svolge tra il 18 ottobre, domenica 18 ottobre al calare del sole, fino al giorno 16 di novembre dove entreremo nel nuovo mese che è il mese di Kijlev. Ma andiamo a vedere insieme cosa succede a livello biblico in questo mese e cosa significa. Questo mese di Shevan o Marshevan o Shervan ha diverse pronunce, ha diversi modi di essere chiamato e ora vedremo il perché. È il secondo mese del calendario civile iniziando dal mese di Tirci, mentre è l'ottavo mese partendo dal mese di Nisan che è il mese secondo il calendario religioso, il mese che noi sempre diciamo della Pasqua da cui prendono riferimento tutte le altre feste che si trovano in Levitico 23. A livello biblico questa è una valenza molto importante perché il numero 8 sta a significare proprio il numero dei nuovi inizi. È l'unico mese del calendario di Dio o del calendario ebraico che non ha delle feste particolari o delle diciamo loro li chiamano mitzvot, cioè dei comandamenti. Non ha delle ricorrenze speciali questo mese ma nonostante ciò è un mese super 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 aiutatemi a dire super significativo perché succede qualcosa che sconvolgerà l'intera umanità proprio in questo mese. Però partendo proprio dal significato del mese, il mese viene anche chiamato in Prima Re capitolo 6 versetto 38 il mese di Bull che deriva appunto da Mabul che significa diluvio, diluvio vi sto dando già degli indizi su questo mese. Il mese appunto nell'originale significa anche l'ottavo mese, esattamente il mese numero 8 ed è un mese che viene decretato proprio come abbondanza di piogge, abbondanza di piogge perché? Perché in questo mese l'avvenimento più importante è proprio il diluvio che noi troviamo nella storia di Noè. Vi voglio dare altre informazioni sempre sul mese oltre al diluvio a livello biblico è stato il mese dove i giudei ritornano dalla Babilonia quindi a un mese appunto di restaurazione e è anche lo stesso mese, nello stesso mese, nello stesso tempo Salomone finisce il tempio che però attenzione non viene consagrato durante il mese di Shevan ma viene consagrato per ordine direttamente da Dio a Salomone nel mese di Tirci dell'anno seguente quindi è importante capire che in questo tempo in questo mese viene finito il tempio di Salomone che troviamo in Prima Re capitolo 6 versetto 1 però viene consagrato il tempio nel mese di Tirci del prossimo anno. Ricordiamoci che il mese di Tirci è significativo per le tre feste di autunno e perché è appunto uno dei mesi più simbolici e carichi proprio della presenza di Dio nel calendario di Dio. Ma ora andiamo a vedere perché si chiama Shevan o Mar Shevan. Il prefisso Mar significa proprio amaro, amaro, Mar Shevan viene chiamato Shevan o Mar Shevan, Mar significa amaro. Perché amaro? Perché non ci sono delle feste in onore a Dio durante questo tempo e in più perché ricorda il giudizio del diluvio. Perché Mar significa anche goccia d'acqua come proprio troviamo anche in Isaia 40 versetto 15 che ricorda appunto il significato di Mar, di goccia d'acqua. Noi troviamo poi la promessa di Dio dopo il diluvio. Noi tutti conosciamo la storia, non voglio leggerla qui insieme, voglio darvi solo delle coordinate anche alla fine di questo video, ma noi sappiamo che Dio dopo il diluvio benedisse Noè e promise alla terra di non inondarla più per distruzione. E lo troviamo in Levitico 26 versetto 4 dove dice proprio che Dio darà le piogge nel momento appropriato. Però parlando del significato di questo mese noi vediamo come essendo un mese amaro perché ad ogni modo quando noi andiamo in Genesi e troviamo la storia di Noè noi capiamo che Dio decide di inondare la terra con il diluvio proprio come giudizio contro la malvagità degli uomini perché secondo lui non c'era un altro modo di rimediare al tutto. Tanto che dice che guarda verso la terra e trova favore davanti alla vista di Noè e della sua famiglia. Di conseguenza Dio decide di chiamare Noè e di chiedergli di costruire un'arca dove preservare la sua famiglia, dove preservare se stesso e preservare una coppia di ogni specie animale per la nuova creazione possiamo dire per un nuovo inizio. Interessante è che inizia il diluvio e queste sono le coordinate profetiche di questo mese che inizia nel giorno 17 di questo mese del mese di Shevan che letteralmente nel 2020 sarebbe al calare del sole del 3 novembre il giorno 17 e nella parola di Dio come vedete nei versetti viene scritto che diluviò per 40 giorni e 40 notti però il diluvio si fermò lì ma non uscirono direttamente alla terra ferma se no che le acque impiegarono un anno per ritirarsi ora immaginatevi quello diluviò 40 giorni 40 notti ma loro tornarono sulla terra asciutta esattamente il giorno 27 di Shevan dell'anno successivo e questo è molto significativo perché perché a livello profetico ci fa vedere come anche se è un mese amaro non importa quello che ci può venire di giudizio non importa quello che può esserci nell'atmosfera spirituale è anche un mese che Dio ha pianificato come un reset come un nuovo inizio non a caso è il mese numero 8 tutte queste cose non sono coincidente se no che sono proprio un linguaggio profetico per farci rendere conto dei tempi in cui stiamo vivendo e io lo applico molto questo anche a tutte le notizie che noi sentiamo oggi giorno ai telegiornali quasi siamo sull'orlo di un secondo lockdown sappiamo che ci sono tante cose sotto però alla fine dobbiamo concentrarci non in quello che sentiamo nel naturale se no in quello che vediamo per fede nei tempi che si ripetono nel calendario di Dio e questo è un mese che può sembrare all'inizio amaro ma dobbiamo ricordarci che Dio trovò favore guardando il volto di Noè guardando il suo cuore e questo è un tempo dove anche se ci possa essere giudizio anche se ci possa essere crisi anche se ci possa essere quello che sia di malvagità sulla faccia della terra o veramente il male che possa regnare dobbiamo ricordarci che la nostra realtà va al di sopra di ogni realtà naturale e così come arrivò il diluvio il 17 di Shevan allo stesso tempo Dio permise di entrare in un nuovo tempo chiuse veramente quel tempo di diluvio di giudizio e aprì una nuova creazione per Noè per la sua famiglia sempre nel mese di Shevan quindi io credo fermamente a livello profetico che è un mese di opportunità un mese di un nuovo inizio non importa quello che dica il naturale è un mese che se guardiamo con gli occhi della fede è un mese di restaurazione di qualcosa di nuovo come lo dice il numero 8 ora come voi sapete ogni mese ha dei simboli particolari la lettera dell'alfabeto ebraico che caratterizza questo mese è la lettera Nun è la lettera N nel nostro calendario nel nostro alfabeto normale ma la lettera Nun significa proprio regnare ovviamente è come il verbo della radice di regnare lo troviamo nel Salmo 72 versetto 17 e appunto parla di ereditare quel trono non a caso è collegata al numero 8 che è quella eterna rivelazione del soprannaturale dell'inizio di nuove cose di nuovo tempo di un nuovo inizio allo stesso tempo la costellazione che governa questo mese è la costellazione dello scorpio che viene a simboleggiare proprio parte di quello che è il serpente antico dell'edem ora voglio farvi capire i passaggi che farò perché magari risultano difficili o complicati ma c'è un modo di studiare la bibbia che applicano i giudei che attraverso la gematria che è uno studio attento dei numeri è uno studio appunto anche delle parole perché vi voglio spiegare brevemente ad ogni lettera come ho detto già nei video precedenti viene associata un numero e ogni numero corrisponde anche a una lettera dell'alfabeto ebraico quindi ogni parola è un insieme diciamo di numeri e la gematria è proprio lo studio significativo di questi numeri che si formano attraverso le parole ebraiche perché vi dico tutto questo perché scorpio sta a significare per i giudei proprio il serpente antico è uno dei riferimenti al serpente antico dell'eden e sappiamo che in genesi 3 15 dopo che adamo ed eva peccano dio dice qualcosa all'umanità e dice proprio io porrò i nemicizi tra te e la donna inteso come il serpente antico e fra la tua progenie e la progenie di lei questa progenie ti scaccerà schiaccerà il capo e tu le ferirai il calcagno tu le ferirai il calcagno quando qua parla appunto di scorpione viene riferito a quello che è il calcagno dell'uomo perché perché la parola scorpio deriva proprio dalla parola calcagno ora questo è interessante per quale motivo perché a livello di gematria c'è lo studio associato ad ogni lettera che corrisponde a una parola del numero rappresentato proprio dalla lettera ebraica la parola messia ha un valore numerico di 358 e la parola serpente al valore numerico di 372 ora voi mi potete dire serpente scorpione hanno lo stesso valore numerico ma cosa significa tutto questo come associato è associato nel modo che vi dirò la parola messia 358 sommata alla parola davide che è la lettera 14 è il numero 14 da esattamente 372 ossia l'unico in grado di schiacciare quel capo di quel serpente sarebbe stato il messia che veniva dalla genealogia di davide interessante è anche che la parola davide che al valore 14 il numero 14 corrisponde proprio alla lettera dell'alfabeto ebraico che è la lettera nun che abbiamo visto che sta proprio per regnare o ereditare quel trono tutto questo per dirvi che la libia è un codice e chi sa leggere quei codici già dall'inizio dei tempi veniva scritta che cosa quel valore numerico che avrebbe schiacciato la testa di quel serpente antico che aveva fatto cadere l'umanità interessante è che la parola sempre che è composta da queste tre lettere chat shin e nun permutata forma la parola serpente proprio per farci capire come è collegato questo mese con quello che è la malvagità con quello che è la distruzione legata al diluvio ma anche con quello che è la giustificazione per grazia attraverso gesù e attraverso il favore che dio ha verso le nostre vite se non vi è rimasto chiaro non vi preoccupate commentatemi sotto nel video io cercherò di spiegarlo o di scrivere appunto nei commenti so che questo è un argomento molto vasto ma sapete la bibbia è piena di questi codici la gematria è qualcosa che si studia dall'alba dei tempi e questi valori numerici associati alle parole danno proprio luce anche a molti misteri che stanno scoprendo gli studiosi della parola di dio tribù collegata a questo mese è la tribù di manasce che è il primogenito appunto di giuseppe e deriva proprio questa parola dalla parola dimenticare ed è interessante perché qua ci parla proprio del potere della giustificazione o di un giusto che era giuseppe che ha portato a dimenticare quel dolore quella sofferenza a dimenticare tutto quello che ha passato e ad essere restaurato come salvatore come liberatore anche di tutta israele anche di tutta la discendenza appunto di giacobbe ricordiamoci appunto che giuseppe ha un privilegio che i due figli vengono inseriti come tribù dentro israele e questo sta a significare anche che cosa tutto il dolore tutto l'amaro tutto quello che era da dimenticare viene trasformato per il bene abbiamo di nuovo la doppia valenza di questo mese che può essere visto amaro come qualcuno ma chi ha gli occhi su il messia chi ha gli occhi su dio chi ha gli occhi veramente verso la sua presenza ogni cosa che è considerata amara per il mondo o una situazione di catastrofe può essere rigirata a nostro favore per il nostro bene così come è successo a giuseppe e per questo vediamo che questa tribù di questo mese è la tribù di manasse il senso come voi sapete ogni mese viene associato a un senso fisico il senso associato a questo mese è il senso dell'odore o dell'olfatto ma io ho detto e c'è qualcosa di molto misterioso in questo perché perché il senso appunto dell'olfatto è l'unico senso secondo gli studiosi appunto giudei che è più spirituale di tutti gli altri sensi ossia più spirituale del tatto più spirituale di quello che uno vede perché viene considerato che l'olfatto è l'unico senso che gode l'anima e non il corpo cioè che riceve direttamente le informazioni l'anima e non il corpo in questo studio non posso approfondire ma è molto interessante prima o poi lo faremo insieme qui sul canale il senso dell'olfatto appunto ha lo stesso le stesse lettere che formano le lettere della parola spirito proprio perché sono collegate sono connesse tra di loro e per farvi dare un esempio di questo in tutto l'antico testamento noi vediamo che ogni volta si produceva un altare per l'eterno dice che lui non vedeva tanto la vista di quella altare se no che lui sentiva l'odore suave o l'odore per esempio di un fuoco strano o di un fuoco che non era puro non vedeva cosa veniva bruciato ma vedeva l'odore che veniva emanato da quel sacrificio proprio per far vedere come il senso dell'olfatto è qualcosa collegato alla parte spirituale e infatti vi voglio leggere insieme qualcosa che a me ha toccato tantissimo ho scritto tanti appunti su questo argomento forse un giorno farò uscire un libro che parla proprio dell'importanza dell'altare perché dopo il diluvio dopo i 40 giorni di diluvio 40 notti di diluvio dopo l'anno passato dentro l'arca c'è qualcosa che noè fa all'uscire dall'arca che non so se tutti ce ne siamo resi conto però è qualcosa che tocca profondamente il mio cuore perché dio non chiede di fare questa cosa noè semplicemente nasce dal suo cuore e ci fa vedere perché dio lo preserva durante tutto il diluvio e lo voglio leggere con voi si trova proprio in genesi vogliamo andare insieme in genesi capitolo 8 versetto dal 20 al 22 e dice così noè costruì un altare all'eterno prese animali puri di ogni specie uccelli puri di ogni specie e offrì olocausti sull'altare l'eterno sentì un odore suave e l'eterno disse in cuor suo io non maledirò più la terra ad alcun motivo dell'uomo poiché il cuore dell'uomo concepisce disegni malvagi fin dall'adonescenza non colpirò più ogni essere vivente come ho fatto finché la terra durerà semina e raccolta freddo e caldo estate e inverno giorno e notte non cesseranno mai c'è uno studio interessantissimo sull'altare la prima cosa che fanno è allo scendere da quell'arca è costruire un altare all'eterno e qui troviamo il primo altare costruito in tutta l'umanità tutti gli altri che noi vediamo nell'antico testamento nel nuovo testamento e l'altare che oggi è la nostra vita non è più un altare fisico ma è l'altare proprio della nostra vita resa dio noi vediamo che tutto inizia con noè e interessante è che dice che l'eterno nel versetto 21 sentì un odore suave un odore suave quell'odore provoca quel piacere di dio veramente agli occhi di dio quel piacere della vita di noè provoca proprio il sentire quella fragranza del cuore di noè dell'azione di noè della sua vita non è tanto il gesto naturale quanto quello che produce nel mondo spirituale per quello noi vediamo che il senso di questo mese è proprio quello odore è una percezione spirituale di quello che sta realmente succedendo inoltre noi sappiamo che in questo mese c'è quella promessa dell'arcobaleno che per tanto tempo hanno usato per tanti slogan e tante cose che non hanno niente a che vedere che nel capitolo 9 versetto 12 ci parla proprio che l'arcobaleno è il simbolo di quel patto tra dio e l'uomo che lui non avrebbe più mandato un diluvio per distruggere la terra quindi ogni volta che vediamo quell'arcobaleno ci deve far ricordare il patto che dio ha con noi il patto di fedeltà il patto della sua parola il patto di favore e io oggi ti voglio incoraggiare al di là di ogni cosa in questo nuovo mese molti festeggiano halloween altri festeggiano altre cose altri sono amareggiati da tutte le notizie ci vengono date ogni giorno covid aumento contagi questo quest'altro altri magari hanno perso il lavoro altri non sanno come andare avanti è tempo di guardare non al naturale non al periodo storico che stiamo vivendo ma a guardare veramente a quello che dio vuole fare un nuovo inizio un nuovo inizio un mese che può portare un diluvio può portare veramente con la malvagità a una crisi sia una crisi economica sia una crisi naturale sia una crisi che possiamo vedere e la possiamo vedere la possiamo quasi toccare tangibile ma chi confida nell'eterno veramente dice romani ogni cosa copra al bene di coloro che lo amano di coloro che lo cercano è tempo veramente di affidarci a dio e come dio ha risparmiato noè e gli ha dato un nuovo inizio così sia un tempo per noi dove dio possa mettere i suoi occhi di favore nella nostra vita e questo mese sia un mese di svolta sia un mese di nuove idee sia un mese di nuovi lavori sia un mese di creativo sia un mese dove la mano di dio il favore di dio possa essere sulle nostre vite in modo soprannaturale per questo ci tenevo a parlare appunto di questo nuovo mese è un mese dove non dobbiamo vedere l'amaro che ci possa essere se no ricordarci che perfino nel mese più amaro nel mese dove non ci sono feste nel mese dove apparentemente non c'è un motivo dove avvicinarsi a dio è proprio il mese dove ogni situazione viene capovolta al nostro favore è il mese della fine del diluvio è il mese di quella fine della costruzione del tempio che rappresenta la presenza di dio è un mese veramente dove il favore di dio è sulla vita dei suoi figli e so che non lo faccio di solito ma vorrei concludere con una preghiera in questo tempo stabilendo questo calendario nelle nostre vite e il significato profetico di questo mese padre ti ringraziamo perché il nostro tempo non è il tuo tempo padre ti ringraziamo perché i nostri piani non sono i nostri tuoi piani padre e tu mi fai ricordare veramente quella frase che ho letto in questo tempo che dove arrivano i miei limiti e di lì dove tu inizi ad operare padre io voglio chiederti veramente di operare nella vita di ognuno dei tuoi figli delle tue figlie e che questo calendario il vero calendario quello spirituale si possa stabilire nelle nostre vite padre io dichiaro questo mese mese di nuove opportunità un mese di un nuovo inizio di un restauro anche se c'è malvagità nel mondo se veramente sembra che non ci sia una soluzione noi dichiariamo il tuo favore nelle nostre vite padre che tutti noi possiamo costruire in questo tempo un altare alla tua presenza che la nostra vita possa essere quell'altare che la nostra vita possa avere quell'odore fragrante quello quella aroma suave che possa salire al tuo cuore padre in accettazione papà io ti chiedo per ogni famiglia che sta lottando in questo tempo naturale sia per un lavoro sia per una malattia sia per un contagio padre ti chiedo di mettere la tua mano in modo sopranaturale ora padre che tu possa rigirare ogni situazione amara in bene per i tuoi figli padre io stabilisco questo nuovo mese come mese di favore sulle nostre vite papà e dichiaro la tua parola sulle nostre vite nel nome di gesù amen amen quindi voglio ricordarti che se hai qualche domanda la puoi scrivere qui sotto nel canale nel video oppure puoi mandarci dei messaggi privati sia la mail sia su instagram sapete mi trovate o me naumitas su instagram o qualsiasi dubbio voi possiate avere potete contattarci se vi piacciono questi contenuti vi chiedo per favore di condividerli con i vostri amici scriveteci mandateci commenti condividete il link e soprattutto subscribe non mi piace tanto fare tipo la youtuber però per favore così continuiamo a condividere informazioni con voi utili se volete sapere qualsiasi altra cosa scriveteci fateci sapere argomenti cose che vi piacerebbe che noi trattassimo in questo canale e vi voglio anche ricordare che bomba uscito è uscito il libro di past joe di mio fratello si lo so sono un po di parte però è uscito il suo libro il tempo relativo di dio non te lo perdere lo puoi trovare su amazon o se hai bisogno di maggiori copie per la tua chiesa per la tua famiglia se vuoi fare un regalo già anticipato a natale poi regalare questo libro è bellissimo parla appunto del confronto tra la relatività scientifica applicata alla bibbia ed è qualcosa che sconvolge ci fa vedere ancora di più e avere chiarezza sui tempi di dio che non sono legate alle nostre circostanze a quello che stiamo passando nel naturale ma dio è al di sopra ragazzi quindi ve lo consiglio vivamente e niente quindi iscriviti qua al canale così ogni volta che condividiamo con te un nuovo video ti viene la notifica su youtube e ci aggiorniamo al prossimo episodio del calendario di dio ciao a tutti raga ciao ciao